Il cuore del cristiano è magnanimo perché è figlio di un padre dall'animo grande e apre le braccia per accogliere tutti con generosità. Lo ha detto il Papa nella messa del mattino a casa Santa Marta, nel giorno in cui la Chiesa celebra la memoria di San Tommaso d'Aquino. Sono presenti alcuni sacerdoti che hanno festeggiato con il Papa i 50 anni della loro ordinazione. Rispettare gli esseri viventi, soprattutto i più deboli, la scienza non prevarichi mai sull'uomo. È l'esortazione elevata da Papa Francesco nell'udienza al Comitato Nazionale per la Bioetica. Il Pontefice ha ribadito che gli embrioni umani non devono essere mai trattati come materiale scartabile. Il Santo Padre ha ricevuto oggi in udienza il Presidente della Repubblica del Togo, il quale ha successivamente incontrato il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato accompagnato da Sua Eccellenza Monsignor Gallagher. Presentate oggi alla Sala Stampa gli appuntamenti per la 24esima giornata mondiale del malato che si terrà a Nazareth in Terra Santa l'11 febbraio prossimo. Il messaggio del Santo Padre per tale giornata sul tema Affidarsi a Gesù Misericordioso come Maria, qualsiasi cosa vi dica, fatela, è stato pubblicato il 15 settembre scorso. Visita in queste ore a casa Bernadette di Alessandro De Francisci, medico permanente e presidente dell'Ufficio Constatazioni Mediche del Santuario Francese di Lourdes. Il rallentamento del percorso del DDL Cirinna per la prima votazione martedì 2 febbraio rende ancora più determinante il risultato della manifestazione che non potrà non pesare sull'iter del disegno di legge. Il portavoce del Comitato Difendiamo i nostri figli, Gandolfini, invita a partecipare numerosi al Family Day, sabato 30 gennaio alle 14 al Circo Massimo. Ognuno si senta chiamato in prima persona a non mancare. Il cristiano deve essere testimone della luce ricevuta nel battesimo e deve avere un cuore aperto e magnanimo che si lascia guidare dallo Spirito Santo e accoglie tutti con generosità. Lo ha detto Papa Francesco nell'omilia della Messa del Mattino preseduta a casa Santa Marta, commentando il brano del Vangelo di Marco proposto dalla liturgia. Presenti alcuni sacerdoti che hanno festeggiato col Papa i 50 anni della loro ordinazione. Il cuore cristiano è magnanimo, è aperto sempre. Non è un cuore che si chiude nel proprio egoismo o almeno si misura fino a qui, fino a qua. Quando tu entri in questa luce di Gesù, quando tu entri nell'amicizia di Gesù, quando ti lasci da guidare dallo Spirito Santo, il cuore viene aperto, magnanimo. E il cristiano in questo punto non guadagna, perde, ma perde per guadagnare un'altra cosa. e con questa, diciamo, sconfitta di interessi, guadagna Gesù, guadagna essere testimone di Gesù. La bioetica è nata per confrontare attraverso uno sforzo critico le ragioni e le condizioni richieste dalla dignità della persona umana con gli sviluppi delle scienze e delle tecnologie biologiche mediche i quali, nel loro ritmo accelerato, rischiano di smarrire ogni riferimento che non sia l'utilità e il profitto. Così il Papa, nell'audienza al Comitato Nazionale per la Bioetica, è noto a tutti quanto la Chiesa sia sensibile alle tematiche etiche, e ha detto, ma forse non è altrettanto chiaro a tutti che... Che la Chiesa non rivendica alcuno spazio privilegiato in questo campo, anzi, è soddisfatta quando la coscienza civile, ai vari livelli, è in grado di riflettere, di discernere e di operare sulla base della libera e aperta razionalità e dei valori costitutivi della persona e della società. Infatti, proprio questa responsabile maturità civile è il segno che la Semina del Vangelo, questa sì, revelata e affidata alla Chiesa, ha portato frutto riuscendo a promuovere la ricerca del vero e del bene e del bello nelle complesse questioni umane ed etiche. Il Papa ha sottolineato quanto la Chiesa sostenga gli sforzi che nella società civile promuovono la ricerca del vero e del bene nelle complesse questioni umane ed etiche. Si tratta, in sostanza, di servire l'uomo, tutto l'uomo, tutti gli uomini e donne con particolare attenzione e cura, come è stato ricordato, per i soggetti più deboli e svantaggiati che sentano a far sentire la loro voce oppure non possono ancora o non possono più farla sentire. Su questo terreno la comunità ecclesiale e quella civile si incontrano e sono chiamate a collaborare secondo le rispettive distinte competenze. Questo comitato, ha proseguito il Papa, ha più volte trattato il rispetto per l'integrità dell'essere umano e la tutela della salute dal concepimento fino alla morte naturale, considerando la persona nella sua singolarità sempre come fine e mai semplicemente come mezzo. Voi siete consapevoli che tale ricerca sui complessi problemi bioetici non è facile e non sempre raggiunge rapidamente un'armonica conclusione che se richiede sempre umiltà e realismo e non teme il confronto tra le diverse posizioni e che, infine, la testimonianza data alla verità contribuisce alla maturazione della coscienza civile. Quindi il Pontefice ha voluto incoraggiare il lavoro in alcuni ambiti come l'analisi delle cause del degrado ambientale, il tema della disabilità e dell'emarginazione dei soggetti vulnerabili in una società protesa alla competizione, all'accelerazione del progresso. È la sfida di contrastare la cultura dello scarto, ha detto, che ha tante espressioni oggi, tra cui via il trattare gli embrioni umani come materiale scartabile e così anche le persone malate e anziane che si avvicinano alla morte. Il Santo Padre ha ricevuto oggi in udienza il Presidente della Repubblica del Togo, il signor Faure Eson Zimna Nassimbe, il quale ha successivamente incontrato il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da Sua Eccellenza Monsignor Gallagher. Durante i cordiali colloqui si è preso atto delle buone relazioni esistenti tra la Santa Sede del Togo e delle prospettive di un loro ulteriore consolidamento. Ci si è poi soffermati sul contributo dei cattolici allo sviluppo del Paese e al progresso integrale del popolo togolese, in particolare nel campo educativo. Nella conversazione sono state passate in rassegna alcune sfide che interessano i Paesi dell'Africa occidentale e subsahariana, sottolineando la necessità di un impegno comune in favore della sicurezza e della pace nella regione. Questa mattina inoltre Papa Francesco ha ricevuto in udienza il signor Leonardo Di Caprio, attore e ambientalista. Sono le due attività dichiarate, una accanto all'altra, da Leonardo Di Caprio, sul suo profilo Twitter. Ed è stato questo riconosciuto impegno nel campo della tutela ambientale che lo ha portato a desiderare di incontrare, come è avvenuto questa mattina in Vaticano, Papa Francesco, nel quale Di Caprio riconosce un'autorità in materia, in particolare con la pubblicazione dell'enciclica Laudato Si. Affidarsi a Gesù misericordioso come Maria, qualsiasi cosa vi dica, fatela. È il tema del messaggio del Papa per la prossima giornata mondiale del malato, la ventiquattresima, che avrà luogo in Terra Santa, a Nazareth. Il presidente del Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari, Monsignor Zimowski, ha ricordato che la giornata è stata istituita da San Giovanni Paolo II, con una lettera al Cardinal Angelini, primo presidente del di Castero, nel maggio del 1992. In questa lettera il Papa sottolinea due dimensioni della importanza della giornata mondiale, cioè far del bene a chi soffre e far del bene della propria sofferenza, cioè sensibilizzare i malati per offrire le loro sofferenze per gli altri, per la Chiesa, eccetera. Allora far del bene a chi soffre, far del bene della propria sofferenza. Il tema di tale messaggio è molto bello, affidarsi a Gesù misericordioso come Maria, e dopo c'è la citazione di Giovanni, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Per questo motivo Santo Padre Francesco ha proposto di meditare il racconto evangelico delle nozze di Cana, dove Gesù fece il suo primo miracolo, perché la giornata mondiale si svolge come abbiamo sentito prima in Terra Santa. La celebrazione della giornata del malato in Terra Santa, decisa già al tempo di Papa Ratzinger, avrà il suo fulcro nel santuario mariano di Nazareth, ma non mancheranno diversi momenti a Betlemme e Ramallah, oltre che Gerusalemme, per consentire ai fedeli palestinesi di partecipare. Essa sarà scandita da momenti liturgici, approfondimenti teologico-pastorali e concreti gesti di carità, che troveranno particolare espressione in visite a ospedali e strutture di cura e di accoglienza presenti nel territorio. Quelle principali celebrazioni, soprattutto a livello religioso, sono quelle che avranno luogo a Ramallah, Betlemme, Getsemani e Nazareth. Poi ci saranno altre celebrazioni secondarie, ma dove i cristiani locali o le persone locali possono incontrare i pellegrini e la delegazione della Santa Sede. E ci sarà una celebrazione con un carattere universale, con tutti i pellegrini che vengono dal mondo, che saranno presenti in Terra Santa, con degli ammalati che vengono dalla Spagna, dall'Italia, o ha sentito recentemente anche dall'Australia. Per l'occasione il Santo Padre concede indulgenza parziale, plenaria alle solite condizioni, non solo a coloro che tra il 7 e il 13 febbraio si recheranno nei luoghi stabiliti, ma anche ai fedeli che negli ospedali pubblici o in qualsiasi casa privata assistono con carità, come il buon samaritano, gli ammalati e a motivo del loro servizio non possono partecipare alle funzioni indicate. Se in quei giorni presteranno generosamente per qualche ora la loro assistenza caritatevole, è come se lo facessero allo stesso Cristo Signore e reciteranno il Padre Nostro, il Credo e una Pia Invocazione alla Beata Vergine Maria, avendo l'animo distaccato da ogni peccato e il proposito di addiempiere non appena possibile alle condizioni richieste per l'ottenimento dell'indulgenza plenaria. Dobbiamo sempre considerare le persone nella sua integrità, quindi è questa carne di Cristo che pur nelle sue deficienze riveste uno splendore di divinità e quindi siamo chiamati ad un'assistenza a tutto campo nei confronti di ogni persona, riconoscendo in ciascuna persona al di là delle sembianze più o meno belle la presenza stessa di Cristo. Ecco il senso della giornata mondiale del malato in questo anno santo della misericordia. Questa prossimità con la tenerezza di Maria deve diventare realtà quotidiana, esperienza quotidiana sia per gli operatori sanitari, coloro che professionalmente sono al fianco dei malati ma anche tutti quanti come cristiani e come uomini di buona volontà accostarci a coloro che sono nella necessità e nel bisogno ed è un'esperienza questa di chiesa, di chiesa. Coinvolgente visita all'Unitalsi di Roma del Presidente dell'Ufficio Constatazioni Mediche di Lourdes il dottor Alessandro De Franciscis primo non francese a ricoprire la carica di medico permanente a Lourdes una carica questa che ricopre dall'anno 2009 e che lo porta ogni giorno a studiare i casi di presunta guarigione inspiegata che avvengono al santuario di Lourdes. Un momento di famiglia come ha ricordato il Presidente della Sottosezione di Roma Emanuele Trancalini. Questa visita è veramente importante per noi è un motivo di grande orgoglio chiaramente non è stata una visita formale e non ci sono stati saluti formali anzi ho proprio sottolineato che doveva essere una cosa molto informale perché doveva respirare da un italiano doveva respirare e doveva assaporare il nostro stile e il nostro essere famiglia in questa casa. Un momento organizzato da tempo e vissuto nella semplicità della visita a Casa Bernadette ai locali che ospitano le famiglie con bambini ricoverati nei principali ospedali pediatrici di Roma. Momento centrale dell'incontro la Santa Messa alla presenza dei volontari della Sottosezione e dei volontari impiegati al servizio del Giubileo Straordinario della Misericordia. Ho aderito molto volentieri all'invito degli amici della Sottosezione romana di Unitalsi peraltro un invito antico a visitare a conoscere più da vicino la Casa Bernadette e questa realtà che promana da Unitalsi e che si apre poi alle esigenze delle persone amiche di Unitalsi che mostrano che Unitalsi non è solo treni. Studi ormai controllati e pubblicati in letteratura mostrano che quando ad un paziente o familiare di paziente è dato di condividere con altri medico, infermieri servizi sociali dell'ospedale o della struttura le proprie paure i propri timori e i propri convincimenti religiosi la performance cioè il livello di risultato delle terapie proposte è statisticamente più efficace che se invece questo non è consentito. Quindi uno può avere uno straordinario ospedale come dire alla moda e però mancare questo retroterra umano e perché no cristiano e probabilmente non si ottengono i medesimi risultati che avendo questo retroterra. Quindi da ogni punto di vista credo che questo potrebbe essere un'altra provocazione positiva un fraterno esempio che Unitalsi dà ad altre realtà ecclesiali in Italia per attrezzarci a riscoprire quella solidarietà e quel sovvenire soprattutto alle periferie e chi è malato è una delle periferie della vita di tutti i giorni cui Papa Francesco in quest'anno giubilare ci invita giorno dopo giorno. Il disegno di legge Cirinna prevede la stepchild ovvero l'adozione del figlio del partner. Voi siete contrari soltanto a questo? Alla stepchild? Va detto con molta chiarezza perché su questo punto spesso c'è confusione. noi siamo contrari in blocco al DDL Cirinna in particolare all'articolo 5 che parla della stepchild adoption ma voglio sottolineare anche ad altri articoli in cui di fatto la Unione Civile viene trattata esattamente come il matrimonio articolo 29 della Costituzione. Nel momento in cui si parla di cognome comune di vedovanza e tanti altri passaggi abbiamo detto in lungo e largo questa è una operazione di maquillage ed è una trappola nel quale non dobbiamo cadere perché nel momento in cui la famiglia verrà omologata alle unioni civili alle unioni civili verranno dati tutti i diritti che sono propri della famiglia e quindi i bambini la fecondazione eterologa l'utero in affitto e tutto quello che ci va dietro e quindi noi a questo siamo assolutamente contrari in particolare ovviamente con particolare forza e rigorosità l'articolo 5 che prevede appunto la cosiddetta stepchild adoption che in termini letterari vuol dire l'adozione del figliastro stepchild e che prevede appunto l'adozione del figlio biologico del partner e il punto di partenza della nostra condanna non è il presunto diritto o desiderio di genitorialità di filiazione di adozione ma è che al centro ci deve stare il diritto del bambino e il bambino ha il diritto di avere un papà e una mamma per casi singoli particolari alcuni di questi anche particolarmente complessi sul piano sociologico esistenziale esiste un istituto diciamo dello Stato che si chiama Tribunale dei minorenni il quale caso per caso sentenzierà qual è la struttura migliore nella quale il bambino potrà affermare la sua personalità e la legge che norma le adozioni in Italia e che norma l'affido in Italia dice chiaro e tondo che i due capisaldi sono da una parte il supremo interesse del bambino e dall'altra parte anche la cosiddetta continuità affettiva qualora questa si fosse già radicata siamo contrari anche a un'ipotesi che ogni tanto si sente ventilare del cosiddetto affido rafforzato perché l'affido rafforzato detta molto banalmente ma molto chiaramente è una presa in giro l'affido rafforzato qualora dovesse passare 48 ore dopo ci sarà un qualche tribunale sparso nel territorio in cui un giudice monocratico sentenzierà che se la Unione Civile è legittimata l'affido rafforzato può essere tranquillamente legittimata all'adozione e quindi per via giurisprudenziale invece che per via legislativa passerà di fatto l'omologazione dell'Unione Civile al matrimonio in questo momento ad esempio è di fondamentale importanza che la piazza del 20 giugno si ripeta e sia ancora più affollata ancora più numerosa perché per esperienza abbiamo visto che l'unica voce che può smuovere le coscienze o in maniera meno aulica gli opportunismi di alcune forze politiche è legato esclusivamente al fatto che la popolazione italiana che tutti i sondaggi dicono essere ampiamente contraria alle adozioni da parte di coppie omogenitoriali possa far sentire la propria voce quindi grande collaborazione grande condivisione dei valori e dei principi probabilmente momenti di strategia diversa perché ognuno ha una propria specificità prima pagina dell'osservatore romano con la data del 29 gennaio 2016 al comitato nazionale per la bioetica il papa chiede attenzione per i più vulnerabili senza spazi privilegiati e ricorda che la chiesa auspica una responsabile maturità civile conferenza degli ulema sulle minoranze religiose passi avanti a Marrakesh 24 morti in un nuovo naufragio la tragedia dei profughi e l'illusione europea udienza al presidente della repubblica del togo i donatori si accingono a raddoppiare gli impegni finanziari aiuti alla popolazione siriana governanti grazie a te